È il cane Guida John, la mascotte dell'accordo siglato in Regione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Nasce infatti il Centro Servizi Regionale per lo Sviluppo di Azioni finalizzate a favorire l'informazione, la fruizione e l'accesso ai servizi sanitari da parte delle persone con disabilità visiva. Particolare attenzione sarà dedicata a coloro che hanno difficoltà di accesso alle piattaforme e applicazioni istituzionali online. Questa è una delle principali azioni dell'accordo sottoscritto dal Presidente della Regione Eugenio Gianni, da Massimo Diodati, Presidente del Consiglio Regionale Toscana dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus. Il Centro, gestito da UICI, si avvarrà di personale dedicato adeguatamente formato che garantirà tutto il supporto possibile per favorire l'accesso ai servizi. La collaborazione prevede un contributo regionale di 40.000 euro per l'anno corrente, testimonia la consapevolezza di quanto la pandemia abbia aggravato il problema dell'isolamento sociale per la fascia di popolazione più anziana, soprattutto se colpita da questa disabilità. Vi è da parte mia la soddisfazione di vedere che la sinergia tra l'Unione Italiana Ciechi e l'istituzione pubblica, in questo caso la Regione, è qualcosa di molto vitale che ha dato alla Toscana la possibilità di offrire servizi sempre un passo avanti agli altri. Devo dire che in questo caso nuovamente noi presentiamo il centro servizi che potrà consentire di svolgere tutta una serie di funzioni di assistenza, di indicazione, di indirizzo e poi di materiale capacità di servizio proprio attraverso la sinergia che si viene a creare la Regione con i nostri assessorati, quello al sociale di Serena Spinelli, quello alla sanità di Simone Bezzini e l'Unione Ciechi. Un accordo di questo genere con tutte le attività che noi andiamo a svolgere, quali possono essere la formazione professionale, la riabilitazione, il supporto al personale per la realizzazione di progetti, quindi erano tutte cose che venivano fatte normalmente dalla nostra associazione ma non strutturate in un protocollo unico. Quindi questo è proprio veramente un bellissimo risultato che grazie al nostro lavoro dei nostri uffici, degli uffici della Regione Toscana, stamattina abbiamo firmato.